Questo servizio offerto da Sicula Trasporti dal 1977 tecnologia ed ambiente Presidente Leonardi siamo nella settimana che porta a questo match che può valere una stagione vale sicuramente l'approdo in finale per quanto riguarda l'eccellenza chiaramente l'emozione è anche di programmare un evento così tosto, così decisivo ma vedo che anche la piazza, Lentini e i colori bianconeri stanno rispondendo alla grande No, per fortuna siamo abituati perché ha tre anni che facciamo questi tipi di campionati quindi credo programmiamo noi sempre ogni partita come se fosse una giornata speciale perché lo voglio dire sempre, alla León se non ha mai regalato niente a nessuno quindi credo che ogni partita vada preparata sia dal punto di vista di come pubblico anche noi come squadra come una finale questa è una delle tante finali che ci apprestiamo a vivere domenica è una tappa importante di questa stagione di questa mia eccellenza che è molto avvincente, molto 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 bello mi auguro anche molto lungo per noi quindi mi aspetto il tutto esaurito oggi già come prevendite siamo a un buon punto quindi posso essere soddisfatto fino ad oggi del percorso dei miei ragazzi ma anche di quello che verrà e che mi auguro continueremo a fare a Lentini il direttore Miniemi praticamente ha partita finita a Capodorlando giustamente ha ricordato la media di oltre 60 punti di gestione Leonardi praticamente più di 180 in due campionati di promozione e in questo primo campionato regionale di eccellenza gli obiettivi sono già stati raggiunti in relazione chiaramente a quello che si era prefissata la società e lo staff tecnico però è chiaro che l'appetito viene mangiando e c'è ancora un'altra partita minimo da disputare da vincere Sì quello che dico sempre ai miei ragazzi che lo so per certo lo sanno anche loro che sono una persona molto ambiziosa tre anni che lavoriamo per fare campionati importanti quindi il bilancio ogni anno per fortuna nostro sono sempre positivi quest'anno è un terzo posto da matricola anche se la Leonsio non può essere mai una matricola attenzione questo qua non lo vogliamo cercare come attenuante però la Leonsio in base alla struttura che hanno in base alla sua struttura societaria, al pubblico, alla città e alle esperienze calcistiche che ha vissuto questa piazza non può essere mai una matricola in eccellenza noi ci crediamo, ci credo in prima persona lo dimostriamo da qui fino a tre anni fa dove non ho preso nulla diciamo in questa società non c'era nessuno tra virgolette abbiamo iniziato tutto quanto da zero piano piano i risultati ci sono stati il primo anno abbiamo fatto i playoff secondo noi abbiamo stravinto un cambiato di promozione che è credo difficile tra i più difficili degli ultimi dieci anni quest'anno siamo dei terzi sempre tra i cambiati di questa parte dieci anni più difficili quindi un bilancio credo della mia gestione importante anche Lentini sta risvegliando appunto il piacere del calcio che è mancato da un bel po' di tempo domenica arriva Iletroina altra squadra che ha sicuramente finora sorpreso o quantomeno comunque sviluppato un grande campionato lì c'è lo sforzo importante davanti a un altro imprenditore qual è il presidente Ali che sta facendo bene un altro tecnico qual è Peppe Pagana c'è chiaramente stima e rispetto per questa squadra che geograficamente diciamo tra virgolette calcisticamente non era tra quelle più accreditate però questo è anche il bello del calcio ma sai quando tu hai le spalle è una società solida e importante che rispetto agli impegni poi viene tutto quanto facile Troina è una dolce, una bella realtà che si sta approntando a questo campionato è una ripescata anche se l'anno scorso ha sfiorato il salto di categoria contro il Gela quindi ha fatto un buon campionato hanno cambiato poco stanno investendo su dei ragazzi importanti hanno la tranquillità perché ribadisco noi su Lentini abbiamo il blasone già tu quando hai il blasone a volte come noi come a Cireale ma stessa di Gia Virtus giochi con i favori del pronostico quindi ti viene a volte un po' difficile perché quando puoi perdere punti state facendo perlomeno quando sei in difficoltà ti fanno pesare il discorso del blasone a Troina come può essere anche a Rocca come possono essere anche altri paesi tutto questo non esiste perché sono sempre realtà che ho come taormina realtà che voi non voi quello che hanno fatto è tutto di guadagnato perché un plauso va appunto a Troina che due anni fa nel nostro girone è retrocessa quindi ho fatto il play-out non mi ricordo quindi in due anni a questa parte ha rispolverato un entusiasmo in un paese che questa categoria non la conoscevo la conosceva pochissimo non mi ricordo appunto io se il Troina abbia fatto malare l'eccellenza a questi livelli è importante è importante vedere anche i svolti di altre società però ribadisco gli impegni sono tanti i progetti vanno affrontati e noi siamo in ballo e balleremo fino all'ultimo il monito è quello chiaramente di presenziare ogni gradino dell'Angelino Nobile con anche uno slogan un motto che ormai sta imperversando anche perché la Sicola Leonzo ci crede con la D maiusco ci crediamo ci crediamo sempre siamo là quando una squadra è là come ci crediamo noi d'altronde ci credono anche gli altri quindi noi sappiamo sicuramente che la Leonzo è sempre stata la squadra da battere da questi anni fino ai prossimi sappiamo sicuramente qualsiasi sia la categoria della Leonzo che è sempre la squadra da battere perché siamo sempre sulla bocca di tutti sulle cose positive sulle cose negative quindi è normale che tutti hanno fame di giocare contro la Leonzo venire in Gino Nobile e giocare davanti a 2.000 persone non è da tutti quanti i giorni le squadre in eccellenza che fanno una media pubblica di 1.200-1.300 persone se le possono permettere soltanto pochissime società come Gela Cireale Igea quindi è una vecchia signora del calcio siciliano che vuoi non vuoi cerchiamo di risvegliarla piano piano con tanti sacrifici i miei del direttore sportivo dei mister ma anche del comando bianconero che ci segue sempre in trasferta quindi ci crediamo crediamoci e viviamo domenica in domenica questa questa avventura che mi auguro non finisca qui che possano possa durare tanto anche quest'anno la ringrazio chiaramente della disponibilità domenica mi auguro che riempiamo lo stadio veramente non ci crediamo mi auguro sia un giorno di sport e che ovviamente non mi voglio sbilanciare però crediamoci crediamoci sempre il popolo lentinese è sempre vicino a noi quindi già grazie da oggi fino ai prossimi giorni vi dirò sempre grazie e domenica riempiamo lo stadio grazie a tutti grazie a tutti